buongiorno amici un saluto a tutti oggi abbiamo una televisione marca ayer modello lt 26 m1 c questa televisione è di vincenzo ciao vincenzo benvenuto nel canale allora ieri sono andato a casa sua e l'abbiamo provata insieme il problema che il led lampeggia adesso io non ho qui telecomando provo ad accenderla con il pulsante laterale quindi do alimentazione premo il pulsante ma niente da fare la televisione proprio non si accende dovrebbe accendersi perché qui c'è il pulsante ma comunque ieri l'ho vista bene aveva il led lampeggiante e la televisione non si accendeva andiamo a togliere lo schienale e andiamo a vedere dentro il problema di questa televisione bene amici dopo aver tolto lo schienale abbiamo davanti a noi l'alimentatore e la scheda madre io mi concentro di più su l'alimentatore perché se non ho nessuna luce qui davanti il problema secondo me è proprio l'alimentatore prima di tutto ho già preparato il test per fare le varie misurazioni iniziamo subito sulla parte primaria del nostro alimentatore quindi vado a misurare su questo condensatore se abbiamo qualcosa andiamo a vedere più e meno come vedete dal tester abbiamo 396 volt perfetto quindi sulla parte primaria l'alimentazione è a posto direi di andare subito sul secondario del nostro alimentatore quindi su questa parte qua abbiamo vi metto qui in descrizione la fotografia più ingrandita per capirci meglio abbiamo l'uscita con il voltaggio esatto di ogni filo abbiamo cinque volte 24 e 12 volte iniziamo subito a mettere un puntale al negativo del secondario e andiamo a testare i primi 12 volte andiamo a vedere se abbiamo perfetto abbiamo 12 volte adesso andiamo sui 24 e abbiamo i 24 indoviniamo un po che cosa potrebbe mancare a questo punto andiamo a misurare i cinque volte e vediamo cosa abbiamo abbiamo un abbassamento di corrente di tre volte quindi qui il problema è proprio sul ramo dei cinque volte per individuare il problema io direi proprio di staccare la nostra scheda andare sul banco da lavoro verificare le piste che portano ai condensatori dai cinque volte dall'uscita fino ai primi condensatori che andiamo trovare per poter fare i primi test su questi condensatori una cosa che ci tengo tanto a farvi vedere è questo vecchio strumento che ho costruito circa 25 30 anni fa e l'ho sempre utilizzato per poter scaricare il condensatore sull'alimentatore primario come abbiamo visto prima sul condensatore primario ci sono 360 volt 90 quello che era e sono ancora qui dentro quindi se io vado a mettere mano su questa scheda anche se non ho il filo di rete posso beccarmi una bella botta su questo condensatore e vi assicuro che fa molto male quindi con questo strumento utilizzo e sempre puntare del tester e vado a scaricare il condensatore ok condensatore scarico adesso in sicurezza posso andare a smontare la scheda dell'alimentatore e finalmente metterci mano per capire il problema sui cinque volte qui su questi condensatori andiamo subito sul banco da lavoro eccoci qua finalmente sul banco da lavoro non vedo l'ora di smontare questi condensatori quindi sulla linea dei cinque volte ho trovato due condensatori il c954 da 470 microfar 16 volt e l'altro condensatore da 330 microfar 16 volt in posizione 953 benissimo non perdiamo altro tempo andiamo subito a disaldare per disaldare vado mettere il prima un po di stagno nuovo sui pin del condensatore in modo da poter rimuovere il condensatore più facilmente quindi faccio in questo modo ed ecco qui il condensatore rimosso lo metto da parte perché dopo andiamo a testarlo insieme verifico la posizione dell'altro condensatore eccolo qui sempre un po di stagno e poi vado a rimuoverlo perfetto dopo con una pompetta aspirastagno vado a liberare i fori ed ecco qui l'altro condensatore adesso vado a prendere il tester per fare un confronto fra il condensatore vecchio e quello nuovo pronto con il tester andiamo subito a testare il primo condensatore quello da 330 microfarad in posizione 953 quindi vado semplicemente a pinzare i due pin del condensatore in questo modo senza far toccare i puntali accendo il tester e accendo il tester e andiamo a fare il primo esame ok 330 mi da 324 non è perfettissimo ma comunque può ancora andar bene anche se poi lo vado a cambiare comunque andiamo a provare il nuovo condensatore vediamo cosa dice 349 in effetti deve essere sempre un pochino più alto rispetto al valore quindi da 330 se va a 349 va molto bene adesso andiamo a provare il condensatore da 470 abbiamo un 456 è un po scarso andiamo a provare quello nuovo ok proviamo 482 meglio ancora perfetto anche le sr va molto bene 0.22 ohm perfetto io direi proprio di sostituire i due condensatori non ci sono It's gonna say so, I can't say no Can you just say another night? Bene amici, alimentatore già rimontato, 3, 2, 1, via, corrente inserita e andiamo su, ecco qua, guardate già da queste luci bianche, significa che il pannello è già acceso, quindi è tutto funzionante, ma prima di tutto andiamo a verificare se abbiamo i 5V, quindi come ho fatto prima, puntale al negativo del secondario e il più sull'uscita dei 5V, perfetto, vedete abbiamo 5,25, vabbè quel 25 lì, comunque è sempre meglio in più che meno, ve lo dico io, 3V prima e adesso 5,25, perfetto, il televisore è stato riparato, andiamo anche a vedere qui davanti, scusate la ripresa, se abbiamo il LED blu, il LED blu c'è, perfetto, Allora come dico sempre amici, televisore è riparato, like meritato, un saluto a Vincenzo, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ciao ciao